Sta facendo discutere in questi giorni l'ipotesi di realizzazione di un eco valorizzatore nel comune di Città Sant'Angelo in località Piano di Sacco. E' stato questo l'argomento dell'incontro pubblico organizzato ieri al centro Ibisco dal comune stesso, aperto ad amministratori, ambientalisti, cittadini che si sono ritrovati per capire quali possono essere i vantaggi della costruzione di questo biodigestore. Una proposta partita da due aziende aderenti a SNAM, un project financing dell'importo di 30 milioni di euro, la metà dei quali a carico del privato proponente, l'altra metà facente capo ad Ambiente S.p.A., la società che svolge servizi di gestione dei rifiuti presso i comuni soci, tra cui Pescara, oltre Città Sant'Angelo e altri cinque del pescarese. Come spiegato anche dall'amministratore di ambiente Massimo Papa, l'impianto consente di lavorare una cospicua frazione di organico ricavando nel compost biologico, chiamato sempre più a sostituire con cimi chimici e biometano, andando a soddisfare la sempre più crescente richiesta di fabbisogno energetico anche alla luce degli sviluppi del conflitto russo- ucraino. Un tassello fondamentale che si inserisce nello sviluppo dell'economia circolare che ha dei paletti. Nei prossimi 15 anni il nostro paese dovrà ridurre al 10% lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e il target di riciclo dovrà toccare il 65%, ora il 45%. La proposta iniziale di SNAMA, peraltro, è andata incontro a osservazioni redatte da Comune di Pescara e Ambiente e che sono state approvate a maggioranza dall'Assemblea dei Soci. Ora il dibattito resta aperto. Da cosa dipende la felicità di questo impianto? Dipende prima di tutto dalla nostra competenza e capacità tecnica nel costruirlo e poi dal fatto che la popolazione tutta capisca che è un grande passo in avanti verso la soluzione di problemi che noi abbiamo da sempre affrontato in maniera non sempre corretta sia ecologicamente che economicamente. Questo progetto diventa opportunamente emendato, cambiato in alcune parti, modificato e integrato, poi diventa sostanzialmente la base per fare un bando di gara europeo in cui il proponente ha un diritto di prelazione. Ma tutti gli altri che sono interessati, costruttori, realizzatori, costruttori, realizzatori e gestori, sono assolutamente invitati a dare il meglio di loro stessi per delle offerte convenienti sia dal punto di vista qualitativo che da un punto di vista economico. Chi parla di una decisione già presa non conosce bene l'iter amministrativo. Le decisioni si prendono soprattutto quando si parla di impiantistica di rifiuti all'interno del via della valutazione di impatto ambientale in regione. È l'unico organo deputato nella quale un'amministrazione o un comitato può portare delle osservazioni e quindi può cercare di bloccare un qualsiasi iter. Chi parla di decisioni già prese in una semplice assemblea di sindaci che demandano ad ambiente la possibilità di ricevere una proposta progettuale a cui seguirà invece un progetto definitivo, sinceramente fa semplice demagogia e non parla chiaro ai cittadini.